wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un altro mio nuovo video il terzo oggi io sono xyuder e ragazzi non poteva mancare ovviamente anche per questo aggiornamento tutte le novità della patch 13.00 quella che ci porta in season 3 una season che ho avuto modo di giocare per qualche ora insieme a voi in chat in live su twitch tanta tanta roba a me piace mi piace come messa la mappa mi piace tanto che ci siano meno prati incolti da correre anche se credo che cambierà ancora belle le location belle le idee belle più o meno le nuove armi ma andiamo andiamo subito a vedere ragazzi tutto quello che c'è da vedere mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e sempre codice creator xyuderone allora siamo direttamente ragazzi con la prima immagine che è la più importante la modifica del logo ufficiale di fortnite nelle miniature nelle anteprime come vedete abbiamo di fronte la skin jules quindi il l'ingegnere che finalmente arriva in questa stagione e dietro abbiamo il cavaliere femmina e johnsy nella versione finale del suo outfit quindi molto bella anche questa associazione tra roba un po steampunk e acqua tanta tanta roba questa invece la schermata nuova di caricamento lo dicevo anche questa mattina molto bello il fatto che abbiano tolto finalmente quel monocromatico bianco nero che ha caratterizzato tutta la season precedente tanti colori tantissimi mi piace mi piace una bella rinfrescata che oramai essendo quasi in estate ci stava al 100 per cento e andiamo avanti perché questa per chi non l'avesse ancora vista invece è la lobby principale quindi sfondo cielo azzurro siamo una specie di molo come state vedendo e come al solito sulla parte di sinistra ci sono le sfide settimanali sfide già disponibili ma da questa season ci sono anche delle sfide rapide ovvero sia roba molto easy tipo raccogli 500 di pietra distruggi un drop che non ho ancora capito se sono limitate o infinite perché io ne ho fatte tipo 10 e continuo a darmele e vi dà un bel po di punti esperienza quindi una novità molto gradita per riuscire a salire con il livello del pass battaglia questa immagine dovrà no questa immagine invece è quella della lobby dove c'è il tavolo del pass battaglia quindi possiamo andare a vedere sulla destra di nuovo il bancone con la mappa per vedere le sfide e come notate c'è aquaman ovviamente che è disponibile non è ancora disponibile ma arriverà presto anche in questa season un po fa le veci di deadpool non ce lo regaleranno quindi tanta tanta roba mentre se andiamo a cliccare sulla ragazza qua davanti che tra l'altro è una skin del pass battaglia vi ricordo tra l'altro che sul canale youtube c'è il video reaction a tutto il pass battaglia quindi se volete guardare che cosa c'è lo trovate possiamo vedere tutti gli stili delle skin e ce ne sono davvero tantissimi andando avanti ecco invece il forti la flyer il nostro ombrellino della vittoria molto carino con scritto sos probabilmente causa inondazione è costruito con boh dei delle specie di tegole metalliche e c'è sopra lo spray di un arcobaleno molto carino tra l'altro grande notizie per gli ombrelli proprio in questa season perché lo noterete anche nel pass battaglia ogni ombrello o meglio non ogni alcuni ombrelli potranno essere personalizzati totalmente la scia il telo la punta il manico la parte sotto una roba molto carina per avere un'ulteriore personalizzazione e ovviamente eccola qua ragazzi la mappa ufficiale di come la troverete in game ci saranno al primo accesso tantissime zone oscurate vi invito a guardarle tutte perché alcuni luoghi sono davvero mozzafiato e devo dire che mi piace sempre di più come gestiscono le mappe quelli di epic games non stancano mai non non stufano anche la mappa precedente era molto bella perché mi piaceva tanto il discorso dei collegamenti dei fiumi d'acqua con la zona centrale in realtà ha un po stancato solo per il tempo in cui è rimasta ma non per come era la mappa invece adesso l'acqua come notate la fa da padrona nella parte alta di sinistra andando avanti le nuove armi mitiche spariscono alcune armi e ne arrivano di altre c'è un aug mitico un rampino mitico che ha la particolarità di farti aprire il deltaplano quando si aggrappa arriverà la flare gun anche se non l'ho ancora vista in game e arriverà anche la il lancia shockwave grenade quindi le granate quelle shockwave sotto invece abbiamo il nuovo fucile a pompa quindi addio al pompa del nonno arriva una nuova categoria di fucile a pompa a colpo singolo tre colpi in canna la particolarità di questo fucile è che bisogna tenere premuto finché un indicatore non arriva fino al massimo se vogliamo fare il danno al 100 mila per cento altrimenti possiamo sparare i tre colpi ma il danno sarà molto molto ridotto e andando avanti abbiamo tutto un elenco di nuove skin che potete vedere e che troverete anche nel pass battaglia modifichi anche per quanto riguarda gli scagnozzi che sono con i pantaloncini corti e come notate sotto anche una versione dorata del dell'agente del caos mentre insomma tutte le altre skin le scoprirete poi nel pass battaglia una selezione molto rapida di backpack eccoli qua c'è il backpack della luna c'è lo scudo del cavaliere c'è il gufo meccanico e tanta altra roba curiosa e carina si parla anche tanto di fiori in questa season non ho capito bene perché ma secondo me studiandoci in questi giorni nei video news ci arriveremo una panoramica anche sulla flare gun ragazzi che come vedete a 1,5 secondi di ricarica 6 colpi nel caricatore e un danno di 60 ai giocatori ripeto io non l'ho ancora vista in game quindi appena saprò e vedrò lo saprete anche voi magari controllate anche la mia pagina instagram nuovi standardi invece per tutti vanno un pochettino a richiamare tutto quello che c'è in questa season sono standardi che potremo ottenere sbloccando i livelli del pass battaglia qua come vi anticipavo la mega personalizzazione degli ombrelli non è per tutti gli ombrelli ma è per alcuni ci sono tantissime varianti un pochettino il discorso di maya nella season 2 riportato però sugli ombrelli come vi anticipavo appunto un'ottima personalizzazione e andiamo a vedere invece questa immagine un po sfocata ma che vi deve interessare perché è una nuova roba che arriva in game una scatola che contiene degli ortaggi e della frutta sì non sto scherzando aprendola con il classico tasto per aprire troverete funghi pannocchie cavolfiori pomodori banane e tutto quello che volete tra l'altro apro una parentesi è stata aggiunta una cosa super interessante se adesso siete ad esempio full shield e passate su un prato dove per caso ci sono dei funghi con il tasto assegnato potrete raccoglierli e portarli nel vostro inventario quindi tanta tanta roba questa è una delle modifiche più intelligenti che abbia mai visto fare da epic games ovviamente a voi scoprire tutte le caratteristiche di ogni ortaggio siamo già invece arrivati alle sfide della settimana numero 1 35 mila punti esperienza per questo nuovo set di sfide che vi permetterà di scoprire al 100% tutta la mappa e mi raccomando ragazzi un'altra grande caratteristica della mappa sono gli squali raga fanno paura fanno paura perché ti saltano addosso se tu spari uno squalo e dici tanto quello nuota chi se ne frega quello ti salta addosso ma anche se sei nascosto in una casa ti sfonda i muri e ti entra quindi fighissimo lo squalo che tra l'altro vi ricordo se provate a pescarlo con una canna da pesca lo potrete cavalcare quindi vi porterà in giro per la mappa in maniera molto più veloce ed ecco qua invece l'immagine ufficiale finalmente del pack di loser fruit non abbiamo ancora ben chiara la data di uscita ma sarà ovviamente a giorni non avevamo neanche mai visto il doppio piccone fruttato quindi molto carino come piccone molto estivo e ovviamente il pack dell'icon series verrà consegnato con la sua emote apro un'altra parentesi nel pass battaglia troverete dei picconi che hanno un una caratteristica particolare sono picconi che possono essere utilizzati o a due mani oppure singolarmente quindi molto carina anche questa nuova funzionalità e arriviamo a vedere una cosa che non è ancora disponibile in game ma che arriverà il firefly jar praticamente sarà una specie di barattolo di vetro come state vedendo che lanciato rilascerà del fuoco e quindi si parla di incendi alle strutture ne avevamo già parlato un po di tempo fa questo potrebbe anche ricollegarsi al logo dell'ombrello incendiato e sicuramente ne approfondiremo i prossimi giorni un rapido sguardo anche a tutti i nuovi balletti ce ne sono tanti sono molti disponibili nel pass battaglia quindi li otterrete semplicemente shoppandolo e per concludere ragazzi anche i nuovi picconi tra cui il tridente di poseidone lì di aquaman come diamine si chiama che arriverà appunto in una maniera totalmente a sé con una rarità a sé chiudiamo in realtà con questa che sono tutti gli outfit disponibili per un sacco di skin le trovate come vi anticipavo nella sezione del pass battaglia nella vostra lobby premendo a sinistra nella ragazza seduta insomma ragazzi questa era la patch 13.00 una prima risposta una prima spolverata non vi perdete i miei video news dei prossimi giorni perché si scopriranno veramente un sacco di cose ricordo a tutti che io sono in live su twitch adesso e non ve ne scappate perché rimango in live mando solo l'outro ciao 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 ciao